Siamo costretti a parlare ancora di guerra, ma parleremo anche delle tematiche fondamentali per la prossima stagione dell'Unione Europea. Iniziamo! Una buona giornata, buona domenica da Fabio Pizzul, questo è Dialoghi a Nord-Ovest, appuntamento settimanale con un dialogo con voi a partire dalle vostre domande e un tentativo di affrontare anche le tematiche più attuali. Purtroppo bisogna parlare ancora di guerra, perché quello che è accaduto questa notte con l'attacco massiccio da parte dell'Iran nei confronti di Israele con droni e missili ipersonici ha ulteriormente aggravato lo scenario medio orientale e ha aperto delle possibilità di escalation del conflitto in quella zona del mondo, sempre molto delicata, se non a rischio esplosione. Quello che è accaduto è chiaro, l'Iran ha voluto rispondere a quello che era stato l'attacco all'ambasciata, alla propria ambasciata Damasco da parte di Israele, in chiara violazione del diritto internazionale. Gli ayatollah iraniani hanno detto che non potevamo non rispondere, però nella notte è arrivato da parte loro anche un messaggio che non possiamo definire distensivo ma possiamo definire diplomaticamente significativo. Per noi è chiusa qui, dovevamo reagire per l'errore fatto da Israele. Israele adesso non faccia altri errori. Questo è quello che dicono gli ayatollah iraniani, che però si sono resi protagonisti di un atto di guerra nei confronti di Israele. Israele ha reagito andando a neutralizzare praticamente tutti i missili e i droni che arrivavano verso il suo territorio con l'aiuto decisivo degli Stati Uniti e della Gran Bretagna che hanno fornito tutta l'assistenza tecnica per neutralizzare tutti gli esplosivi che attraverso droni o missili stavano arrivando sul territorio israeliano. Il 99% di questi, a quanto si apprende al momento, sono stati neutralizzati con quella che è stata una notte di guerra sui cieli di Israele e dell'intero Medio Oriente. Le foto che circolano sulla rete, ma anche i testimoni diretti, parlano di immagini mai viste con esplosioni nei cieli che determinavano una guerra vera e propria combattuta attraverso strumenti ad alta tecnologia, offensivi e difensivi. Che cosa accadrà adesso? Difficile dirlo. Certo è che la tensione è alle stelle. Il presidente americano Biden ha detto di essere al fianco di Israele, ma ha invitato Netanyahu a non rispondere a questo attacco dell'Iran. Si è detto di convocare anche il G7, Biden lo ha proposto, la presidente del Consiglio Meloni ha detto che è pronta a convocare il G7 su questo fronte. Staremo a vedere che cosa accadrà. Certo è che siamo appesi a un filo dal punto di vista di un possibile conflitto in Medio Oriente. La palla in questo momento pare nelle mani di Israele che viene invitata da tutti a non rispondere a questo attacco. Vedremo quale sarà la decisione anche del gabinetto di guerra che a quanto pare è stato convocato per il pomeriggio di questa domenica in Israele. Il problema qual è? Che sono sempre dei risvolti interni quelli che portano i vari stati a attuare delle azioni di questo tipo. Israele ha dei risvolti chiaramente interni con Netanyahu che si sente molto debole al potere ma vuole mantenerlo e dunque continua l'offensiva a Gaza. Da parte sua l'Iran ha dovuto dal suo punto di vista dare una risposta all'attacco di Israele alla sua ambasciata a Damasco e dunque per rimanere saldo sul fronte interno il governo iraniano, l'Ayatollah Khamenei, ha deciso un'azione di questo tipo. Vi racconto queste cose, uno spirito diciamo così di cronaca sapendo che nel giro di pochi minuti potrebbero già essere vecchie dal punto di vista dell'attualità ma per dire che cosa? Per dire che alla fine la guerra è semplicemente un tentativo di rafforzare il proprio potere la propria potenza scaricandola anche sugli altri in maniera aggressiva. Scenari molto molto preoccupanti scenari inquietanti scenari che non rientrano dal mio punto di vista all'interno di quello che può essere un modo di guardare a un futuro da costruire in maniera solida in maniera promettente per le persone ma anche per i propri cittadini. Che futuro può avere Israele mettendosi solo in un'ottica di guerra? Che futuro può avere l'Iran mettendosi solo in quest'ottica bellicistica? È una domanda francamente a cui è difficile trovare una risposta dal mio punto di vista però una cosa è certa la guerra non può essere una risposta perché la guerra è solo un qualcosa che toglie ogni prospettiva di benessere, di prosperità e soprattutto di pace. Scusate ma ho voluto impiegare i primi cinque minuti di questo podcast di questa domenica 14 aprile provando a reagire a quello che sta accadendo con uno sconcerto che è mio ma penso che sia di molti tentando di dare qualche lettura razionale sapendo che la razionalità purtroppo di fronte alla violenza spesso serve a poco però ha molto a che fare con la diplomazia internazionale che mi auguro possa davvero avere una funzione di mitigazione della follia e dell'escalation della guerra. Quindi ho limitato questa prima parte di domande ma almeno una voglio ascoltarla con voi per poi tentare di dare qualche riflessione in risposta. Ciao Fabio sono Luisa volevo farti una domanda si parla tanto di persone che non vanno più a votare c'è questo allontanamento dalla politica ma io mi chiedo al di là dei vari schieramenti cercare di fare alleanze mettere insieme di tutto e di più ma se cominciassimo a parlare di contenuti magari la gente poi si appassiona se tu gli dici qualcosa di chiaro di cosa vuoi fare di come vogliamo porci nell'Europa che sembra tanto lontane le elezioni ma sono qui cioè tra un mese e mezzo siamo in piena campagna elettorale grazie Grazie a te Luisa sono completamente d'accordo con te dovremmo mettere da parte i ragionamenti che allontanano la gente secondo me su schieramenti campi più o meno larghi polemiche reciproche che sono determinate anche dal fatto che le elezioni europee sono elezioni proporzionali cioè sono elezioni in cui i partiti devono correre da soli allora da qui alle europee purtroppo avremo una netta una netta così preponderanza di atteggiamenti che vogliono dividere piuttosto che unire le potenziali coalizioni che servono per la politica italiana ma poi in vista degli europei dovremmo un po' mettere da parte la politica italiana per parlare davvero di Europa e di contenuti per l'Europa allora voglio darvi lì qualche qualche spunto su quelli che secondo me dovrebbero essere i contenuti per la Europa di oggi e di domani primo continuare con la politica di sostenibilità economica ambientale energetica il Green Deal che molti in Italia liquidano dicendo è solo un modo per mettere in difficoltà gli italiani perché li costringono a cambiare le autovetture perché ci costringono a interventi a nostre spese sulle nostre case e quindi ci costringono a spendere dei soldi ecco in realtà è l'unica prospettiva possibile perché dobbiamo ragionare in termini che tecnicamente si chiamano di One Health cioè di salute globale di salute unitaria noi possiamo pensare di continuare a vivere bene in questi nostri paesi se ci occupiamo dell'ambiente se ci occupiamo della sanità se ci occupiamo del welfare se ci occupiamo insomma del nostro benessere ed è un benessere che non può farci risultare indifferenti nei confronti delle tematiche ambientali qualcuno potrebbe dire sì ma anche se noi azzeriamo le emissioni ci sono la Cina ci sono i paesi emergenti c'è l'India che continuano a inquinare quindi per il nostro pianeta non cambia nulla e cambia come se l'Europa si mette in un'ottica di provare a creare le condizioni per una transizione che possa portare salute che è la cosa principale e benessere e guardate anche per la competitività della nostra Europa andare in quella direzione significa poter essere ancora capaci di creare valore attraverso il nostro sistema produttivo da qua a qualche anno perché se non ci muoviamo in quell'ottica altri paesi lo stanno già facendo la Cina ad esempio molto più di altri gli Stati Uniti con investimenti ingenti l'Europa perde di competitività non è solo una questione sì vabbè però mi rimangono i soldi in tasca perché non devo cambiare la macchina non devo intervenire sulla mia casa per renderla più ecologica no il problema è la competitività se non si va nell'ottica di questo Green Deal l'Europa sarà meno competitiva sarà meno in grado di generare valore e questo sapete cosa significa che con meno ricchezza avremo meno possibilità di finanziare quelli che sono i nostri fiori all'occhiello e quelli che sono gli aspetti principali del nostro benessere ovvero il welfare quindi la salute l'assistenza sociale e anche le nostre pensioni con un'Europa che sta invecchiando sempre di più bisogna far sì che il nostro sistema possa rimanere competitivo e se non si va nell'ottica di un'innovazione sostenibile da tutti i punti di vista questo non potrà avvenire e l'Europa rischia di diventare una piccola periferia del mondo dove spadroneggeranno gli altri paesi le altre potenze e non sto parlando di questo dal punto di vista strategico o bellico ma dal punto di vista economico e sociale per questo bisogna decisamente andare verso quel green deal che è stato evocato ma che negli ultimi tempi rischia in qualche maniera di venire messo in discussione perché? perché se bisogna prendere i voti bisogna accontentare un po' la pancia degli europei e in particolare degli italiani grazie Luisa quindi mi limito a questo spero di aver dato qualche indicazione però da qui alle europee parliamo di temi e non parliamo di baruffe politiche questo mi sembra fondamentale e adesso volevo condividere con voi un approfondimento un commento che mi ha particolarmente colpito in questi giorni siamo sulle pagine di internazionale la firma è quella del direttore Giovanni De Mauro con un commento editoriale intitolato Terza venerdì 5 aprile il consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede di vietare la vendita di armi a Israele i paesi che hanno votato a favore sono 28 i contrari 6 tra cui Stati Uniti e Germania 13 gli astenuti l'Italia non fa parte di questo consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ma da dove vengono si chiede De Mauro le armi che Israele usa contro la popolazione civile della Sisha di Gaza un articolo di David Grinden della BBC dà qualche risposta gli Stati Uniti sono di gran lunga il maggior fornitore e hanno aiutato Israele a costruire uno degli apparati militari tecnologicamente più avanzati del mondo aggiungo io lo ha dimostrato anche questa notte intercettando tutti i missili e i droni provenienti dall'Iran e continua l'articolo secondo il SIP per l'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma gli Stati Uniti hanno fornito il 69% delle armi che Israele ha comprato tra il 2019 e il 2023 subito dopo c'è la Germania con il 30% di queste armi e questo fa il 99% praticamente delle armi che arrivano da Stati Uniti e Germania chi è terza? Terza è l'Italia con lo 0,9% secondo l'Istat lo scorso anno le vendite a Israele di armi prodotte in Italia sono state pari a 13,7 milioni di euro tra ottobre e dicembre sono state approvate esportazioni per 2,1 milioni di euro nonostante il governo avesse assicurato di avere bloccato in base a una legge che vieta la vendita di armi a paesi impegnati in guerre di aggressione o che vialono i diritti umani il ministro della difesa Guido Crosetto ha detto che l'Italia ha onorato i contratti esistenti dopo aver verificato che non riguardassero materiali che potevano essere usati contro i civili definizione ambigua dice De Mauro ma proprio analizzando i dati Istat su altra economia Duccio Facchini ha ricostruito che a dicembre dello scorso anno una parte rilevante delle esportazioni militari italiane verso Israele ha riguardato armi e munizioni a uso militare oltre a materiali e pezzi di ricambio probabilmente usati per i 30 aerei addestratori militari M346 venduti negli ultimi anni dalla Lenia Ermacchi del gruppo Leonardo per far che cosa? per formare i piloti dell'aviazione israeliana la stessa aviazione che da 185 giorni bombarda la striscia di Gaza vedete qui le contraddizioni che hanno a che fare con la nostra industria delle armi armi che come possono non essere usate poi per motivi offensivi anche qui non bisogna dire basta non forniamo più le armi per difendersi all'Ucraina da un lato e Israele dall'altro però siamo sicuri che questa sia solo difesa una domanda che rimane aperta e ora passiamo al nostro spazio per istruzioni per l'uso dell'Europa quest'oggi vorrei parlarvi dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è una delle principali novità introdotte dal trattato di Lisbona nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune il rappresentante anzi l'alto rappresentante è nominato dal Consiglio europeo con l'accordo del Presidente della Commissione europea partecipa ai lavori del Consiglio insieme ai capi di Stato di governo e al Presidente del Consiglio europeo ed è quello della Commissione e cosa fa? Guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione attualmente l'alto rappresentante è lo spagnolo catalano Josef Borrell Fonteles l'alto rappresentante dicevo guida la politica estera e di sicurezza contribuisce con le proposte alla elaborazione di questa politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio e assicura la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea poi tra le altre cose presiede il Consiglio affari esteri rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e insomma è una sorta di rappresentante però è un rappresentante di una politica estera comune che ancora non esiste perché è in capo alle trattative tra i singoli stati per cui un intervento di questo alto rappresentante deve essere prima discusso e la posizione è fatta da una posizione che deve maturare attraverso decisioni unanimi del Consiglio per cui un altro rappresentante che rappresenta un qualcosa che ancora non esiste come la politica estera unitaria dell'Unione europea e anche un meccanismo di difesa comune da qui si coglie ancora una volta la debolezza dell'Unione europea in questo campo e in questo scenario internazionale che richiede compattezza e decisioni prese davvero con grande rapidità cosa che attualmente per quanto riguarda la politica estera l'Unione europea non è in grado di fare siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento settimanale abbiamo iniziato parlando degli scenari di guerra sul Medio Oriente quanto vi ho detto potrebbe essere smentito da quello che accade di minuto in minuto auguriamoci che non ci sia quell'escalation di guerra che terrorizza un po' noi tutti e che sarebbe l'ultima cosa utile in questo momento a tutti coloro che abitano in quel territorio agli israeliani ai palestinesi agli iraniani sembra che la pace si sia allontanata in queste ore ma non bisogna mai disperare bisogna anzi lavorare perché possano aprirsi degli spiragli in quella direzione grazie a tutti voi per aver seguito questa mia chiacchierata di oggi e vi auguro una buona domenica e vi do appuntamento alla prossima settimana e vi do appuntamento e vi do appuntamento a tutti voi Grazie a tutti.